Grazie a tutti. 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 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, andiamo. di più, le mani di destra, giocando, e ripeti, ok, andiamo a fare il braccio sinistro, 1, 2, lo fai al centro del peccolare, e lo fai al centro basso, lo fai con il braccio ne abbiamo già bisogno di un braccio sinistro, faccio, 3, 2, 5, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 18, 10, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 17, 21, 29 , 16, 22, su 4 3 2 2 4 3 ok il proprio di contattato il corpo salvato che andiamo in fase in filato in tipo di tasca ancora espira viene iniziata a fare l'obbligo e manda a mettere e spira per ultimo e mi siano così e mi siano così